Iniziamo subito con gli stacchi uomo ragno, dunque presa inversa, abbiamo già visto gli stacchi presa inversa, mano alta alta, il gomito puntato sugli addominali e gli attivi e portiamo su le ginocchia, divaricandole, cercando di avvicinare le punte dei piedi La spalla è bassa, afferro completamente con la mano inferiore il palo, anche un po' il dito indice, insieme Cambio, ne facciamo sempre una decina alternando i lati Quindi mezze punte, gomito che fa un angolo ottuso, puntato sugli addominali compatti Cambio, spalla bassa Retroversione del bacino Subito E Voilà Ci vediamo nel prossimo video in cui impareremo un nuovo giro Ciao 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 Ciao